Molta più dinamicità e comfort per la S-Max di Ford, vettura che la casa americana classifica come Sport Activity Vehicle, ovvero un SUV d'impronta sportiva. Quello che vedete è solo un concept di quello che sarà la nuova generazione, linee che riproducono il design già espresso in Focus Fiesta e Mondeo, si uniscono a tanto spazio e tecnologia in più. Un esempio il sistema di comunicazione Ford Sync, che questa volta aggiunge tra le opzioni anche la rilevazione della frequenza cardiaca o dei livelli di glucosio. Un puro esercizio di stile e tecnologia, accompagnato da una proposta concreta come la Vignale, destinata ad una clientela VIP. Non è proprio una vettura Vignale, è un'estensione del brand Ford sul lusso, sull'Axary. Un po' come l'ST, è l'estensione del brand Ford sullo sportivo, quindi la Fiesta ST, la Focus ST. Vignale vuole proprio avere questo obiettivo, questo posizionamento.